John, ragazzi! ...trascinata dalle acque verso il Memorial Bridge! Non ce la faremo mai! Non ce la faremo mai! Salvo G. Baxter! Io ti ordino di fermarti! Fermati, ora! Non funziona! Una... No! 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 Come un mare d'acqua! È piovuto dieci minuti! Senti, non è impossibile! Vi amo, ragazzi! D'accordo! Sul serio! Va bene, sì! Vi amo! Grazie! Chi è a favore della legge sullo svincolo dei terreni demaniali, lo dichiari con un sì! Guardate! Ma c'è cos'è? Oh, buon Dio! Attenzione! Oh, buon Dio! Potete proseguire a piedi! Bacino, onorevole! La sua diga ha ceduto, Prestige Crest, distrutta! Dicevano che non c'era pericolo! Non pensavo che... Tu... Tu ce l'hai con me! Sei stato tu, brutta figlia di... Oh, buon Dio! Oh, buon Dio!